Arreda il tuo angolo di lavoro con gli sconti deghi. Approfitta degli sconti deghi di agosto per rinnovare il tuo angolo home office con scrivanie eleganti e funzionali a prezzi imperdibili. La scrivania della serie Mansilla in rovere metallo nero è spaziosa, elegante e scontata a 76,05 euro anziché a 117 euro, perfetta per ogni esigenza di lavoro. La scrivania saetta in legno bianco con vani contenitori è ideale per organizzare documenti ed accessori, scontata a 57,02 euro anziché a 87,99 euro. La scrivania in vetro sagomato della serie City combina eleganza e modernità. Scontata a 297 euro rispetto ai 375 euro originali è un affare da non perdere.